eccomi eccomi mamma mia che eccomi appassionato sentite che voce sua dente eccomi buonasera amici e amiche rossoneri sono stanco morto presto che tardi che non ce la faccio più sono le ore 19.09 di questo martedì 26 aprile 2022 se mi vedi di mercoledì vabbè batte la pesca il solito è menante che dico sempre 27 aprile 2022 vi abbraccio tutti ragazzoli belli sì sono stanco insomma arriva la fine giornata a volte che sono stanco spero che il ponte l'abbiate passato bene facciamo tutti i saluti di rito vi abbraccio tutti ci sono dei momenti che proprio non ho proprio voglia di fare i video ve lo dico sinceramente non ho proprio voglia ma un senso di responsabilità nei vostri confronti oggi proprio la voglia saltami addosso che so che aspettate attendete di sentire questo non è il mio lavoro principale lo dico subito però sono talmente avanguardista talmente avanti me lo scrivete anche voi rispetto a tanti altri che ho questo senso di responsabilità che d'altronde non mi posso sottrarre allora ragazzuoli belli gli argomenti oggi sono tre la guerra tra la procura cioè scusate tra la figc e la serie a per cui c'è anche una novità sulla procura della figc i biglietti venduti per milan fiorentina e marez del manchester city bene allora stasera vi mi guarderò la partita manchester city real madrid che vinca il migliore però voi molti di voi ti ferete carlo ancelotti il nostro carletto che per me non tornerà mai più il mio però io stasera ho un occhio di riguardo verso manchester city di guardiola perché perché dopo l'alleanza con il lille si instaurerà la santa alleanza con manchester city allora vi voglio ricordare che ci sono i giornaloni che oggi titolano che molto probabilmente entro questa settimana si chiuderà la vendita del milan a invest corp a mio modo di vedere entro la metà di maggio cioè al mio compleanno lo fanno apposta o subito dopo il la chiusura del campionato cioè dopo il 22 maggio per me non adesso però tutto può essere vi voglio ricordare che invest corp fondo sovrano del bahrain è controllato per il 20 per cento da mubadala dell'abu dhabi di cui il vice presidente al mactum cioè il presidente del manchester city e dopo adesso vi ho dato prima l'antipasto e dopo ve ne parlo ma cosa sta succedendo a livello politico preciso subito che nella politica in generale io ormai negli ultimi tempi non ci credo più sono sfiduciato nei confronti dei politici perché hanno tradito il mio modo di essere un cittadino col mio senso civico profondo che io non so voi ma io ce l'ho però oggi è andata in scena la guerra tra la politica nel calcio cioè la figc e la lega di serie a mi anticipo subito che la lega di serie a oggi per discutere con la figc di gravina con gravina presente tutti i presidenti dei club di serie a hanno dovuto parlare dell'indice il famoso indice di liquidità cioè quanti soldi i signori del club di serie a possono spendere quanti soldini possono spendere in base al loro fatturato eccetera però è successo questo che i presidenti della lega di serie a cioè la serie a intera scusate ha chiesto due cose che secondo me sono gravissime noi del milan praticamente siamo splendidi e stupendi verso tutti gli altri indebitati della serie a però questo lo devo dire se udite udite cosa hanno fatto il club della serie a hanno chiesto che le plusvalenze in un certo senso in un certo senso poi magari ho capito male io vengano tra virgolette legalizzate e seconda cosa gravissima che vengano eliminati i debiti verso le infrastrutture che possono essere gli affitti verso gli stadi e palazzi di proprietà dei club piuttosto che cioè se tu c'è un debito verso ma ci rendiamo conto vabbè molto probabilmente ho capito male io ma non penso proprio di aver capito male però questa è una cosa oggettiva è andata in scena la guerra tra gravina e la lega di serie a perché cosa è successo allora all'ordine del giorno oggi c'è stata anche la richiesta da FGC di mandare nel professionismo ufficializzare nel professionismo la serie a femminile di caccio femminile e addirittura ha tuonato l'ottito che non è vero che loro hanno avuto dei malumori su questa proposta di fare entrare le donne nel professionismo vergogna 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 e seconda cosa praticamente il famoso indice liquidità che gravina voleva 0,7 cioè o ce la fai a mantenere la tua squadra o praticamente non fai mercato non fai calcio mercato e invece la lega di serie a chiedeva lo 0,4 sembra che sia stato trovato un compromesso 0,5 indice di liquidità e gravina ha detto queste cose oggi contro la lega di serie a non è una questione di contrapposizione con la serie a sull'indice di liquidità il mio unico obiettivo è l'evoluzione del calcio italiano non possiamo dire cambiamo il calcio e poi fare di tutto per conservare lo status quo in questo caso io applaudo gravina voi forse non avete capito a parte noi che siamo virtuosi che siamo eccezionali grazie ad elio tutti gli altri club di serie a stanno facendo i furbi è chiaro poi oggi la procura della figici non si arrende sulla questione plus valenze lo sapete che è stato tutto archiviato praticamente dal tribunale di milano compagnia bella e invece come è successo oggi oggi ha fatto ricorso perché ha depositato oggi il reclamo alla corte sportiva d'appello alla procura della figici e l'udienza dovrebbe tenersi tra una ventinaia di giorni sulle famose plus valenze juventus napoli e 59 dirigenti tra dirigenti presidenti tra cui agnelli parati cinesi compagnia bella bene andate giù fino in fondo andate giù fino in fondo perché io non sopporto più questo cavolo di mondo ipocrita è chiaro allora per il primo maggio per la partita del primo maggio milan fiorentina in san siro sono già stati anzi si prevede che verranno venduti 75 mila biglietti milan fiorentina che spettacolo ragazzi 75 tutto san siro pieno uno spettacolo non ho altro da dire è uno spettacolo che ci meritiamo è chiaro e adesso perché la santa alleanza col manchester city insomma ve l'ho detto prima all'inizio di questo video del perché lo ripeto allora se invest corp se invest corp praticamente è un fondo sovrano del barren controllato il 20 per cento della mubadal della budabbia budabbia un colosso pazzesco dei paesi dell'opec plus cioè dei petrol dollari produttori di petrolio che tra un po di tempo non sarà più petrol dollari ma cambierà la moneta ci saranno due o tre monete vigenti praticamente cosa vuol dire qui si sta parlando del non plus ultra e fin qui ci siamo c'è un giocatore del manchester city un certo marez che praticamente è scadenza di contratto per entro il giugno 2023 allora ragazzoni belli vi voglio ricordare che marez è di origine algerina algerino come il nostro benasser però è alla cittadinanza francese e fin qui ci siamo marez ha 31 anni per cui è ancora abbastanza giovane viene valutato anche se in scadenza di contratto 40 milioni di euro di manchester city marez è un'ala destra eccezionale uno di quei calciatori che ha già vinto tanto morale della favola questo è il vero giocatore che vuole il nuovo milan di mist corp avete capito ci siamo capiti cioè praticamente un giocatore che è un fuoriclasse che è un giocatore abituato a vincere che è un giocatore che praticamente sta facendo la storia del suo club ultimo il manchester city e vi ricordate che per alla destra si parlava di un certo domenico berardi ragazzi forza milan sempre comunque ovunque è uno spettacolo ciao